Musica Musica Un pochettino stanco Però Beh Ci Giochiamo con i giocatori stanchi Ma si No Perfetto ragazzi Adesso abbiamo tutta la serie A A parte il portiere Andiamo a farci questa partita E vediamo Come va Oddio Che squadra C'è Royce Non ha una squadra molto forte Ma a Royce Basta e avanza Ragazzi Qua il matchmaking di FIFA È È incredibile Perché troviamo già giocatori come Royce Che 86 Destro Destro Matteo destro 1 a 0 Salah Pala dentro Per destro Non ci arriva De Jong De Jong Non ci arriva neanche lui Incredibile Destro Destro Finta di tiro Destro ancora nulla Pereira Pala dentro Che miracolo Che miracolo Pereira La mette dentro Robonucci 2 a 0 Per le pantere Del web Mamma mia Pala dentro Per Quagliarella Oddio Che gol Oddio Che gol Firma pure Quagliarella 3 a 0 3 a 0 Per noi Ragazzi 3 a 0 Per noi Ragazzi Forse questa qui sarà L'unica partita Di questo episodio Quindi non ce ne saranno due Ma solamente una Quindi se l'avversa rivesce Diciamo che l'episodio Sarà durato pochissimo A parte che Dopo questa partita Farò l'ultimo acquisto Il prendere Un portiere O forse Un attaccante Palla per Quagliarella 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 Però c'era un fallo C'era un fallo Su Quagliarella Pereira 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 4 a 0 Ragazzi Che squadra Ci troviamo da Dio Ci troviamo Ci troviamo da Dio Palla per destro Destro E qui c'è un fallo E qui c'è un fallo Calcio di rigore Il fallo secondo me Era fuori dall'aria Però ci ha dato Il calcio di rigore Facciamo tirare a Mattia destro Questo rigore Mattia Mattia destro Traversa Traversa Oddio no Oddio no Oddio no Ho caricato troppo ragazzi Volevo metterla troppo angolata Troppo sotto la traversa Ragazzi questo qui Sta tenendo Palla in difesa E Non so cosa vuole fare Sta perdendo 4 a 0 E tiene palla in difesa Per me Va benissimo Io poso il joystick E mi mangio la pizza Che mi è arrivata E ciao ciao Destro Destro 5 a 0 Ragazzi Questo non ha più giocato Cioè Prendeva palla Stava in difesa Così Passava i palloni Arrivava tipo Nel mio calcio d'angolo E poi Ritornava indietro Con i passaggi Tipo avrà L'80% Di possesso palla Ancora ragazzi Ancora E qui c'è fallo Calcio di rigore Calcio di rigore Ragazzi Questo è proprio Un nabbo Che non sa Perdere Un nabbo Che non sa Perdere Calcio di rigore Lo batte Quagliarella E lo mette dentro 6 a 0 6 a 0 6 a 0 Per le pantera Del web E' finita la partita Ragazzi 6 a 0 Sono curioso di vedere Il possesso palla Perché Ha tenuto Tutto il tempo La palla In difesa Tutto il tempo Comunque ragazzi Come ho detto prima Questa qui sarà L'ultima partita Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Un commento Di condividere questo video Nel prossimo episodio Faremo 3 partite Così da Da recuperare un pochettino Visto che in questo episodio Ve ne metto soltanto una Per questo video è tutto Leggete sempre la descrizione Che ci sono scritte cose Molto Interessanti 756 Crediti E il possesso palla 72% Per lui Bravo Perché sono di tutto Vi saluto Ci sento Alla prossima Bella